Buongiorno 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 Ci raccontate questo esperimento? Tradizione È il secondo anno da cui è partita questa tradizione D'anno scorso eravamo in due Quest'anno ne siamo molti di più Rispetto allo scorso Penso proprio di sì Penso proprio di sì E' solo un piacere L'obiettivo? E' essere ancora più numerosi E' essere ancora più numerosi Tutta colpa sua E' stata tutta colpa sua Però adesso Vi siete ispirati A qualche luogo personale? No no no, ispirati ad altre città marine Dove facciamo il bagno Come una città Una cittadina come quella di Termoli Soltellare Soltellare Tutto grasso che cola eh? Tutti lunghi Agis Ehi, andate lì Ma c'è la fonte Pure con il telefonino qua Ma fai anche un bel video papà Ehi, andate lì Ehi, andate lì Tutti per mano eh Ehi, andate lì 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 Ehi Ehi, andate lì Ehi, andate lì Ehi, andate lì Come era l'acqua L'acqua abbastanza fresca 9 gradi Meggio o meglio nell'anno scorso? Eh, più-menu Più-menu siamo là Rispetto alle scorso anze L'anno non c'è la vento Quest'anno c'è più vento E' più vento che si fa sentire Vento fresco, è la maestrale quindi è avvento fresco si sente rispetto a ieri si sente ecco qua questi sono gli altri due pazzi che si sono fregati a noi qualcun altro è già scappato è stato un altro gruppo 15 persone perciò è stata una bella cosa quindi appuntamento all'anno prossimo diciamo di essere ancora più numerosi ciao Antonio di essere ancora più numerosi è stata una bella cosa e speriamo di ritornarci di ancora più numerosi con il progetto vivo uno due tre dì l'ho 40 anni sta arrivando Grazie